Serra Stretta, Serra Scritta in Calabrese, è un comune della provincia di Catanzaro, posto nella zona pedemontana silana, i cui abitanti sono detti serrastrettesi. Fa parte dei borghi autentici d'Italia e il suo territorio è ricco di boschi con castagni, querce e faggi. Il comune è posto, come ho detto, alle pendici della Sila e il suo territorio rientra in parte nell'ismo di Marcellinara, il punto più stretto d'Italia. Il territorio comunale arriva a 1198 metri di altitudine massima sul livello del mare del monte Condrò. Il territorio è collocato in una gola tra le serre e sul monte Condrò vi è una incontaminata e secolare faggeta, molto vasta e variegata, dove è presente un laghetto. Inoltre nel territorio comunale sono presenti in notevole quantità sorgenti d'acqua minerale naturale che sgorga fresca dal sottosuolo. Il nome è un composto di Serra e Stretta, riferendosi alla posizione geografica del paese, collocato, come detto, in una gola tra le propaggini della Sila. Serra Stretta fu fondata nel 1383 dalle famiglie Bruni, Mancuso, Fazio, Talarico e Scalise di Scigliano che per gare intestine emigrarono dalla predetta Scigliano, trovarono rifugio, tormentate dai loro nemici, in quest'area tra due serre. Il nome Serra Stretta è stato dato per la prima volta ad alcuni abitanti di Taverna che, dirigendosi verso Nicastro, notarono questo piccolo abitato stretto tra due serre. Fu feudo della famiglia Caracciolo e nel 1609 fu acquistata dai Daquino. Fin dall'origine fu aggregata come casale all'Università di Ferroleto Antico. Nel 1595 la regia corte della Calabria Ultra, a seguito di un censimento, elevò il paese a università, ossia a comune. Il 19 gennaio 1807 Serra Stretta fu elevata a sede circoscrizionale dei governi del Regno, poi confermata e ampliata con reggio decreto nel 1816 di re Ferdinando di Borbone e dalla successiva ristrutturazione operata nel 1860 dopo l'Unità d'Italia. Il 20 marzo 1807 la sede del giudice di pace fu trasferita da Ferroleto Antico a Serra Stretta, poi fu trasformata nel 1862 in Pretura. Nel corso dei secoli Serra Stretta ha sempre goduto di un'ottima fama, grazie anche alla già citata ricca famiglia d'Aquino, che le fece conoscere un notevole sviluppo economico nel campo dell'artigianato e nella diffusione del commercio del Baco da Seta. Serra Stretta è stata anche uno dei primi centri abitati del sud Italia ad avere nel 1908 l'energia elettrica, ancora prima di Catanzaro, grazie a una sua centrale idroelettrica, di cui nella parte bassa del paese vi sono ancora i resti, e che era gestita dalla società idroelettrica serrastrettese, finanziata da un ambiente famiglia del capoluogo. Le pietanze diffuse a Serra Stretta sono la pasta china, cioè pasta ripiena, con uova, polpette di carne, formaggio pecorino e sugo di pomodoro, il tutto cotto al forno. Le milingiane chine, sempre polpette di melanzane messe in una conchiglia fatta dalla buccia della melanzana e fritte. I fiori mbainati, pastelle di fiori di zucca, poi ci sono le crispelle, che sono ciambelle fritte fatte di pasta di patate, e le braciole, cioè le braciole di patate, con patate, formaggio pecorino e prezzemolo. Tra i salumi spiccano la soppressata, le salsicce, il capicollo, il guanciale affumicato, detto wuffiulu. Importanti sono anche le castagne e l'uva. La raccolta delle castagne, infatti, è diffusa e praticata in tutto il comune, in quanto i castagneti ricoprono buona parte del territorio. Da sempre Serra Stretta è anche un centro importante per la produzione e il commercio di prodotti agricoli di ottima qualità, come patate e pomodori. Sulle pendici del Monte Condro sono numerose le aziende agricole che praticano l'allevamento dei suini, degli ovini e anche dei bovini, importanti per la produzione di ottimi formaggi e salumi. Ma la maggior parte delle attività si basano sulla lavorazione artigianale del legno, che da sempre mette Serra Stretta al primo posto nel meridione per la produzione di sedie. Il modello preferito in assoluto è quello della 13 bis, particolare per la sua spalliera, su cui vi è un disegno apportato con una apposita pressa. Il legno maggiormente utilizzato per produrre le sedie Serra Strettesi è il faggio, che anticamente veniva ricavato dalla faggeta comunale. Ad oggi sono solo due gli artigiani che producono ancora interamente a mano le sedie, poiché le altre aziende hanno puntato di più sulla quantità sfruttando le nuove tecnologie. La produzione delle sedie oggi è accompagnata da quella dei mobili in generale e degli infissi su misura.